L'ultimo relatore prima della tavola rotonda è un signore molto molto importante. Pensate che c'è un'organizzazione italiana che ogni anno individua 12 aziende, 12 organizzazioni italiane considerate eccellenti. Eccellenti per ciò che producono, eccellenti per ciò che fanno, eccellenti per la loro immagine, l'immagine che danno del nostro paese nel mondo. E quest'anno una delle 12 eccellenze italiane è proprio la Fondazione Cini. La Fondazione Giorgio Cini fu istituita dal conte Vittorio Cini, ricordo del figlio Giorgio, con lo scopo di restaurare a Venezia l'isola di San Giorgio Maggiore, isola presso la quale alcuni di voi sono andati anche a fare servizio, e gravemente degradata da quasi 150 anni di occupazione militare, di reinserirla nella vita di Venezia e di farne un centro internazionale di attività culturali. La Fondazione ha per scopo di promuovere il ripristino del complesso monumentale dell'isola di San Giorgio Maggiore, è quell'isola che si trova di fronte alla piazza San Marco, se non siete presenti, San Marco vi affacciate nel bacino, c'è un'isola di fronte, l'isola di San Giorgio, e di favorire la costituzione e lo sviluppo nel territorio di essa di istituzioni educative, sociali, culturali e artistiche, occorrendo in collaborazione con quelle della città di Venezia. La Fondazione, oltre alle proprie attività di ricerca, mostra le convegni, spettacoli e concerti, accoglie congressi e convegni di qualificate organizzazioni scientifiche e culturali, e ospite iniziative di assoluta importanza nel campo di rapporti internazionali. In primis i due incontri del G7 svoltisi nell'80 e l'87, la presenza di maggiori intellettuali e artisti italiani e stranieri, nonché di personalità della politica e dell'economia, e ricordo che ne servono gli studiosi e gli ospiti che l'hanno frequentata, sono un'ulteriore testimonianza del ruolo della Fondazione Giorgio Cini. Diciamo quindi che è un ambiente deputato, brevemente, alla bellezza, la bellezza nell'arte, nella scienza, in tutto. Chi è che governa questa Fondazione Cini di Venezia? Il segretario generale è il signore, che vedete qui a la mia sinistra, Pasquale, il professor Pasquale Gagliardi. Il professor Gagliardi, laureato alla Cattolica di Milano, docente poi di comportamento organizzativo al CUOA, il CUOA è il Centro Universitario di Organizzazione Aziendale, presso il quale mi onoro di aver fatto un master, che è un'organizzazione dell'Università del Triveneto, è professore incaricato di sociologia ed organizzazione della Facoltà di Scienze Politiche dell'Università Cattolica, si è dedicato alla ricerca e alla formazione manageriale, è stato direttore della rete UPIM nell'ambito del gruppo rinascente da 70-64, quindi condirettore generale di una conglomerata industriale. Come studioso Pasquale Gagliardi ha contribuito a diffondere a livello nazionale e internazionale l'utilizzo delle categorie dell'antropologia culturale e sociale per studiare i problemi delle aziende e delle istituzioni contemporanee. Su questi temi è pubblicato articoli, saggi, volumi sia in Italia che all'estero, il prenotto di quali è Le imprese come culture. Bene, il professor Gagliardi, che come gli ospiti precedenti io sono orgoglioso che abbia accettato di venire, di partecipare al nostro festival, a lui è stato assegnato un compito non facile, che però sono sicuro riuscirà a trasmetterci con semplicità e con entusiasmo, che è la responsabilità della bellezza. A lei la parola. Grazie mille. Grazie il servizio. Allora, chi è responsabile della bellezza? E naturalmente per rispondere a questa domanda bisogna chiederci preliminarmente che cosa intendiamo per bellezza, quindi bisogna fare un po' quello che hanno fatto anche i relatori che mi hanno preceduto. Ma le relazioni che mi hanno preceduto dimostrano esattamente questo, che noi normalmente associamo l'idea di bellezza a due cose, principalmente l'arte e la natura. Cioè gli artefatti di qualunque genere, quelli prodotti dagli esseri umani come manifestazione della loro creatività, dei loro impulsi espressivi, delle loro emozioni, hanno delle qualità sensibili, cioè qualità che passano attraverso i sensi, percepibili dai nostri sensi, la vista, l'udito, l'olfatto, il gusto, il tatto, e queste qualità sensibili producono un'esperienza di piacere, un godimento che noi definiamo estetico nel senso letterale del termine, cioè che passa attraverso i sensi. Però diciamo anche che è bello il tramonto, specialmente quello che abbiamo il privilegio noi di vedere a San Giorgio dietro la Chiesa della Salute. Diciamo che è bello un paesaggio del Chianti con i filari di cipressi e i casali sparsi, diciamo che è bello un fiore, o diciamo che è bello un ruscello di montagna dove magari la trasparenza dell'acqua si combina con questo odore acuto del muschio bagnato. Allora, chi ha il potere e la capacità di conservare o viceversa distruggere, preservare o contaminare la natura, l'ambiente, il paesaggio è responsabile di queste forme di bellezza. Quindi può essere un politico, può essere un responsabile di un piano regolatore, può essere chi concede o rifiuta una licenza edilizia. Così come della bellezza degli artefatti è responsabile sia l'artista, l'artista che dedica la vita alla fattura di opere che almeno nelle intenzioni sono destinate a procurare gioia agli altri, sia il gallerista, l'impresario, l'editore, cioè colui che sa riconoscere e fa conoscere le cose belle che sono destinate a durare o che viceversa costruisce commercialmente il successo di opere alla moda che imbrattano le case e i musei. Quindi per il senso comune la bellezza è un attributo della natura e dell'arte, ma nessuno spontaneamente tende ad associare l'idea di bellezza ai fenomeni sociali. In particolare all'organizzazione. Siccome ho dedicato gran parte della mia attività di ricerca all'esplorazione della natura e delle condizioni, della bellezza delle organizzazioni, so perfettamente di essere andato controcorrente. Mi sono mosso contro dei pregiudizi che sono tuttora ampiamente diffusi anche tra le persone colte. E ne ho avuto una riprova di questi pregiudizi quando sono stato invitato a partecipare recentemente a due trasmissioni radiofoniche abbastanza note, una era Incontri di Radio 24 e un'altra era Zapping su Rai 1 dove ero stato invitato per parlare di un libro che ho pubblicato da poco che si chiama Il gusto dell'organizzazione quindi vedete siamo già nel tema il sottotitolo è Estetica, Conoscenza, Management pubblicato da Guerini. In questo libro ho cercato di ricostruire le tappe di questa mia esplorazione della bellezza delle organizzazioni assemblando e traducendo in italiano una serie di saggi che avevo pubblicato praticamente soltanto in inglese o in riviste specializzate o in libri curati da altri o curati da me stesso. Sono stati messi insieme secondo una sequenza che è parsa plausibile l'ho fatto con l'aiuto di un collega che è Massimiliano Monaci e abbiamo discusso di questo libro. Allora, sia il conduttore della trasmissione che altri giornalisti e opinionisti che partecipavano esprimevano tutti il loro stupore alla sola idea che un'organizzazione possa essere bella. Cioè, dai loro commenti dalle loro domande traspariva una convinzione. L'organizzazione, per definizione, è uno spazio freddo senza calore e senza colore dominato dal calcolo dall'ossessione dell'efficienza e della razionalità strumentale. L'obiezione più ovvia era beh, cioè, fa presto lei a parlare di bellezza dell'organizzazione dato che si occupa da anni della Cini dove si fanno cose belle come ricordava il Preside in un contesto bello dove davvero si assapora ogni giorno l'esperienza della bellezza dice, insomma, noi non pensiamo affatto che ci sia spazio per la bellezza in una qualunque delle aziende me l'han detto espressamente di questo Nord-Est ossessionate dalla ricerca del tornaconto destinate ad essere per loro natura dei luoghi di alienazione se non di sopraffazione. Erano opinionisti noti. Allora, ho avuto ancora una volta sperimentato quanto forte sia quello che io chiamo il pregiudizio anti-managerialista e il suo stretto legame con un altro pregiudizio più generale che è il pregiudizio anti-capitalista è lo stesso pregiudizio che spinge alcuni esponenti di quella che si chiama la sociologia critica a considerare schiavi inconsapevoli i lavoratori che svolgono alla perfezione e con amore un lavoro umile che hanno idealizzato e sul quale fondano orgogliosamente la loro identità professionale e sociale. E in qualche modo diciamo una traccia o sullo sfondo di questo pregiudizio c'è anche l'assimilazione che ha fatto il professor De Michelis quando dice la fabbrica come l'inferno rossa e nera come l'inferno. Allora, l'illustrazione della mia tesi che le organizzazioni invece possono essere belle richiede che io chiarisca anche preliminarmente che cosa intendo per organizzazioni e lo faccio richiamando qui una distinzione celebre l'istinzione che fece Max Weber fra le diverse forme di aggregazione sociale perché le persone stanno insieme Weber distingue due forme le forme comunitarie di aggregazione quelle in cui le persone stanno insieme perché condividono dei valori delle tradizioni delle usanze e le forme utilitaristiche di aggregazione che sono quelle in cui le persone stanno insieme per raggiungere un fine specifico, concreto che nessuno da solo potrebbe raggiungere e neppure la somma degli individui potrebbe raggiungere se non fossero appunto organizzati cioè strutturati in un reticolo di ruoli distinti. In questo senso sono organizzazioni utilitaristiche secondo la definizione di Weber non solo le aziende economiche ma anche le scuole l'istituto alberghiero Alberini i partiti, i sindacati gli ospedali le associazioni caritatevoli ciò che conta è che mirino ad uno scopo specifico quale che esso sia non necessariamente un utile nel senso economico del termine. Allora come e perché allora una organizzazione può essere bella? Allora guardiamo un attimo insieme quella che a prima vista è una realtà lontana mille miglia dall'organizzazione utilitaristica e che ne è invece la metafora perfetta come aveva intuito Fellini quando fece prova d'orchestra l'orchestra che esegue una sinfonia Mozart Bruckner Mahler Beethoven qualunque musicisti a voi preferiate cosa accade? Nell'orchestra che esegue musica sinfonica dove si suona insieme noi vediamo nitidamente le caratteristiche essenziali dell'organizzazione utilitaristica cioè la coesistenza difficile tra due dimensioni antitetiche l'estrema specializzazione dei componenti quindi degli strumenti delle abilità delle partiture e la perfetta integrazione cioè la capacità di suonare insieme producendo un risultato che è straordinario o percepiamo come straordinario quando riesce ad esprimere allo stesso tempo le individualità quindi ciascuno strumento gruppo di strumenti sembra andare per la sua strada ma ne riconosciamo il timbro la voce la linea del canto e allo stesso tempo l'unitarietà dell'azione collettiva l'esito non è la cacofonia ma è la suprema armonia e il nostro piacere nell'ascolto è legato alle qualità musicali intrinse che ovviamente della composizione e della sua esecuzione ma anche all'emozione e allo stupore che nasce dal vedere o sentire concretamente incarnata in una esperienza sensibile percepibile nei nostri sensi la coesistenza paradossale della diversità e dell'unità della specializzazione e dell'integrazione ex pluribus unum ecco ogni volta che questo prodigio si rinnova anche in organizzazioni di tipo diverso l'organizzazione diventa bella cioè diventa fonte di emozione e di piacere o compiacimento a un giornalista che in quella trasmissione considerava estremamente improbabile questa eventualità nelle trasmissioni che ho ricordato gli disse a un certo punto ma scusi ma lei non si emoziona quando vede un ospedale che funziona bene gli ho detto perché volevo in questo modo sgombrare il campo dal possibile pregiudizio anticapitalista cioè volevo enfatizzare l'utilità sociale dello scopo e avrei potuto portare un esempio anche più specifico quello di un'equip chirurgica che porta a termine un'operazione complessa dove vedete come esaltate da un microscopio quelle caratteristiche essenziali dell'estrema specializzazione e della capacità di agire collettivamente in modo unitario a cui facevo riferimento prima ecco in ogni organizzazione che funziona bene ognuno esegue la parte che il copione gli assegna il coordinamento spesso è invisibile l'effetto complessivo è quello di un mestrerismo un congegno misterioso e mirabile la qualità estetica di un ristorante che funziona impeccabilmente e la citazione mi sembra appropriata in questo contesto è stata analizzata da un sociologo americano William Footwhite il quale ha dedicato la sua analisi in un libro che si chiama Human Relations in the Restaurant Industry ha studiato come si combina in modo particolare nell'industria dei ristoranti la specializzazione con l'integrazione lui era in particolare focalizzato sul rapporto tra backstage e stage tra cucina e sala e scopre o rivela attraverso quali meccanismi si costruisce una cultura organizzativa specifica in queste organizzazioni che diventa fonte di soddisfazione per chi ne fa parte per chi ne fluisce e per chi la osserva oppure un altro esempio che posso farvi che può essere convincente perché fa riferimento ad un'esperienza ampiamente condivisa e che è anche uno dei pochi casi in cui il senso comune associa spontaneamente l'idea di organizzazione è quella di bellezza è il gioco del calcio cioè qual è la differenza tra un insieme di bambini che in un campetto di periferia fanno tutti la stessa cosa cioè inseguono il pallone e una squadra di professionisti che fa gola attraverso un perfetto gioco di squadra il primo insieme è quello che tecnicamente si definisce un'orda o uno sciame il secondo è una organizzazione che è bella da vedersi perché esalta allo stesso tempo le individualità e il coordinamento la diversità dei ruoli e il gioco di squadra allora la mia domanda è quanto tempo una persona mediamente dedica a vedere mostre d'arte ai concerti alle buone letture e anche al gioco del calcio quanto tempo della sua vita passa in un'organizzazione voi sapete che oggi le organizzazioni le forme di aggregazione sociale che ho definito utilitaristiche stanno sostituendo progressivamente le forme comunitarie di aggregazione cioè sempre più spesso anche le forme comunitarie più tradizionali vengono sostituite o contaminate da forme utilitaristiche governate quindi dalla logica della razionalità strumentale allora si sta avverando quello che Max Weber chiamava il disincantamento del mondo quello che io sto cercando di dimostrare è che questo mondo cioè quello delle organizzazioni nelle quali tutti noi passiamo la maggior parte della nostra vita può essere a sua volta fonte di incantamento ma se la maggior parte degli esseri umani passa la maggior parte della sua vita di veglia nelle organizzazioni la bellezza possibile delle organizzazioni è una questione di grande rilevanza sociale e chi è responsabile di questa bellezza il manager non a caso la più diffusa professione del nostro tempo colui che può o colei che può condizionare la qualità e quindi la bellezza della vita organizzativa può ridurre o invece accrescere la sofferenza umana evitabile può favorire o ostacolare la costruzione di un paesaggio fisico e sociale che può essere fonte di gratificazione o invece prigione psichica per chi vi dimora e a questo riguardo per chiudere non posso non citare un pensiero che Margherita Jursnar attribuisce all'imperatore Adriano nel suo libro le memorie di Adriano quando Adriano seppe di essere stato eletto imperatore il suo primo pensiero fu mi senti responsabile della bellezza del mondo e l'imprenditore il manager chiunque eserciti un potere più o meno grande in una organizzazione è responsabile della bellezza di quella porzione di mondo che la fortuna gli ha affidato o che la sua capacità gli ha consentito di costruire e quel pensiero di Adriano fu il motto di un convegno che organizziamo alla fondazione Cini qualche anno fa sul ruolo della cultura umanistica nella formazione dell'elite cioè di quelli destinati a esercitare il potere nelle società ad oggi e vi cito per chiudere senza chiudere un episodio che accadde in quell'occasione il convegno era stato organizzato dalla Cini in collaborazione con una mia collega polacca Barbara Zarniaska e lei che forse più cinica o più realista non lo so meno idealista di me era un po' riluttante all'idea di usare il motto di Adriano la frase di Adriano come motto del nostro convegno e un giorno entrò provocatoriamente nel mio ufficio con un bicchiere di plastica che aveva acquistato alla biennale sul quale era scritto chi definisce la bellezza e in effetti la provocazione era così forte perché voi sapete che c'è una contraddizione profonda nei paesi occidentali democratici lo Stato è organizzato democraticamente ma la maggior parte delle organizzazioni sono organizzate autocraticamente quindi non solo ma le stesse istituzioni che dovrebbero essere strumento della democrazia come i partiti non sono generalmente organizzate in modo democratico come la cronaca di questi giorni ci porta a sperimentare quindi diciamo vorrei chiudere con questa domanda in fondo chi definisce la bellezza perché non voglio chiudere con una risposta che blocca esaurisce l'argomento ma voglio darvi uno stimolo perché la riflessione continua anche perché io mi auguro che questo evento questo festival della bellezza non sia un episodio occasionale ma sia qualche cosa che si ripeta quindi proprio perché diciamo in qualche modo come invito al fatto che questo fenomeno questo festival si istituzionalizzi io non vi do una risposta esauriente sull'argomento ma vi lascio con una domanda come elemento di riflessione per il futuro grazie grazie grazie